Un'altra giornata da trascorrere insieme, quella di martedì 6 luglio 2021, ben ritrovati cari telespettatori, sul digitale terrestre in tutta la regione Marche c'è Occhio ai giornali, il commento alla stampa del giorno. Allora iniziamo da Santa Maria Goretti che è il santo di oggi, la santa di oggi, oggi è una festa anche per gli abitanti del quartiere di Sant'Orso a Fano perché hanno lì la loro chiesa, la loro parrocchia intitolata a questa santa vergine martire che trascorse una difficile fanciullezza aiutando la madre nelle faccende domestiche, assidua nella preghiera a 12 anni per difendere la sua castità da un aggressore fu uccisa a colpi di pugnale vicino a Nettuno nel Lazio. Il sole è sorto alle 5.31 e tramonterà alle 20.56. Il sole splende su tutta la nostra splendida regione Marche, per oggi come vedete il tempo secondo la protezione civile delle Marche sarà appunto questo, un po' di venti nel pomeriggio, poi domani un po' di nuvole invece, l'aumento delle verature nel pomeriggio e nella sera, poi giovedì 8 luglio ancora parzialmente nuvoloso con un transito di nuvole medio-alte per quanto riguarda le temperature sono in ulteriore aumento, poi c'è il rapido transito di una perturbazione sul nord Italia che influenzerà il tempo ma solo marginalmente sulle Marche con un aumento della nuvolosità per venerdì, il cielo sarà prevalentemente sereno invece sabato e domenica. E come sempre andiamo adesso a farci un tuffo virtuale nelle acque del nostro bel mare Adriatico, questa settimana andiamo all'Arzilla di Fano dove nella spiaggia appunto dell'Arzilla c'è Marco Tanfani. Buongiorno Marco, grazie per aver accolto il nostro invito, allora vedo che intanto familiarizziamo con questo tratto di spiaggia che ci terrà compagnia per questa settimana, vedo già anche delle operai, delle persone, forse sono tuoi collaboratori che stanno pulendo il bagnasciugo, insomma stanno sistemando un po' la spiaggia. Buongiorno, buongiorno a tutti. Marco era mio padre, io sono Nicola ma va bene così. Cioè? Ah Nicola, scusa, scusa, mi porta pazienza. No, non c'è problema, non c'è problema. Ok. Sì, sono i miei collaboratori, i miei colleghi, i miei amici perché tanto alla fine siamo tutti amici e noi abbiamo scogli e sabbia bassa e quindi alla mattina ogni tanto ci troviamo a Aighe e un po' di sassi e quindi puliamo. Ecco, vedo che è una spiaggia, allora intanto gli ombrenoni che colore sono? Bianchi o... Beige, color sabbia. Color sabbia, ecco, quindi c'è la sabbia, vediamo, sì, vediamo la sabbia, vediamo... Insomma è un bello stabilimento. Quanti posti avete lì? Abbiamo circa 490 posti. È una delle concessionarie più grandi, se non ricordo male, della... Sì, sì, come Lido, Sassone, sì, abbastanza. Per quanto riguarda la clientela invece, oltre a quelli del posto, i fanesi, immagino arriveranno anche turisti, spero, per te. Sì, noi quest'anno abbiamo fatto una politica, diciamo, dopo un anno e mezzo passato così, di dare spazio soprattutto ai fanesi e quindi prima di tutto è venuto il fanese che voleva lo stagionale e hanno risposto molto più numerosi rispetto agli altri anni, perché magari gli altri anni c'è chi lo prendeva due o tre settimane, un mese e poi dopo andando in ferie un mese fuori non prendeva lo stagionale. Invece quest'anno abbiamo visto molto più stagionale fanese e siamo contenti. Nicola, so che ti chiamerò Marco, non so perché, ma ormai... Nicola, allora, si fa vedere il mare un attimo? Qui c'è l'acqua bassa, mi pare, no? Sì. Quindi per arrivare, ecco, vedete, ci sono gli scogli, il mare oggi è perfettamente, guardate che spettacolo, acqua limpida, pulitissima questa mattina, c'è il San Bartolo giù in fondo, vedete il San Bartolo sullo sfondo, quindi Pesaro, beh, insomma, devo dire, un bel inizio. Oggi le condizioni meteomarine dunque sono ottime. Sì, sì, condizioni ottime, ci siamo già ripresi da quella piovuta di domenica sera, ieri ha fatto un pochino di nuvole con vento a pulire e da stamattina torniamo con un cielo bellissimo, mare stupendo, complimenti al Comune per la vasca di prima pioggia che hanno fatto, perché i risultati si vedono, nettamente. Ne parliamo domani allora, adesso il tempo a nostra disposizione è finito, ma questa cosa mi interessa, grazie. Allora Nicola, a presto, allora andiamo sui giornali, chiaramente la notizia del giorno lo è da ieri pomeriggio, quando alle 16.20 è passata miglior vita Raffaella Nazionale, Raffaella Carrà, la più amata degli italiani, per noi marchigiani soprattutto perché il suo volto, correvano gli anni Ottanta, era legato indissolubilmente alla Scavolini, a Scavolini-Pesero, quindi anche per noi marchigiani era motivo di vanto e di orgoglio avere una testimonial come Raffaella Carrà, che tra l'altro in quegli anni stava conducendo un programma fortissimo, pronto Raffaella sul primo canale della Rai, e diciamo che non c'era miglior testimonial in quel periodo per un'azienda importante come quella di Monte e l'Abbate, appunto di Scavolini. Di questo parlano i giornali locali, anche oltre a tutti i quotidiani nazionali, e chiaramente ne parlano in chiave anche, come dire, pesarese, perché come titola, per esempio, il Corriere Adriatico questa mattina, eri la più amata dagli italiani. Addio Raffaella Carrà, il suo spot per la Scavolini, celebre nel mondo. E vedremo tra poco le due pagine che il Corriere Adriatico ha dedicato a questa showgirl indimenticabile. Rifiuti invece stretta sulla periferia, Comune di Pesero e Marche Multiservizi predispongono dieci telecamere mobili e itineranti contro i cosiddetti furbetti della differenziata, coloro che si ostinano a non fare la raccolta differenziata dei rifiuti. Individuate almeno sette zone su cui intervenire e si comincerà dal quartiere di Borgo Santa Maria. Il Ministro ha firmato, parliamo dell'autorità portuale, andiamo ad Ancona, il Ministro ha firmato, Pettorino commissario. È un ritorno, il Ministro Giovannini ha deciso, l'ammiraglio Giovanni Pettorino, comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e per tre anni, dal 2010 al 2013, direttore marittimo delle Marche, capo del compartimento marittimo e comandante del Porto di Ancona, finiti? Sì, sarà il commissario delle autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale con base ad Ancona. Ok, poi l'attacca di Urbino, il Magnone dice che il pezzo doveva arrivare dagli Stati Uniti, per questo abbiamo dovuto attendere, cinque giorni ma adesso è tutto a posto, siamo nell'ospedale ovviamente di Urbino, poi scanner corporeo individua il ladro dentro all'albergo e da Fano Profil Glass chiesta sanzione di 1,2 milioni di euro per i due infortuni fatali. Giugno, piogge azzerate, oggi è come 142 anni fa. Allarmanti i dati dell'osservatorio Valerio, il Presidente della provincia si dice preoccupato, si parla di emergenza idrica, dove i dati delle precipitazioni e le temperature sono molto chiari e parlano del primo semestre più siccitoso di sempre. Dopo quello del 1945, la provincia decreta la limitazione dei prelievi ed esprime viva preoccupazione per lo scenario. Andiamo comunque in ordine. Sulla pagina 14 si fa appunto quest'ordine con tutto quello che succede e ne consegue. Mentre, sempre dalla prima del Corriere Adriatico, Governance Ricci flette e scivola di otto punti. Il suo gradimento è al quarto, se non ho letto male nella regione, ma scende a livello nazionale. Il gradimento dei sindaci, Ricci scende al trentesimo posto, la classifica del sole 24 ore, quarto invece tra i marchigiani. Poi lo smart working mezzo dietro fronte, il Comune di Fano dice i fragili possono restare a casa, oggi Assemblea Sindacale dei Dipendenti. A centro pagina Scavolini, noi e Raffaella fu un trionfo, racconta Walter Scavolini, la più amata dagli italiani. Quella scelta geniale, scrive Franco Bertini, provate a pensare al 1984, e appunto si torna indietro nel tempo per ricordare anche quegli anni, che visti oggi, con gli occhi di oggi, nella situazione in cui ci troviamo in questo momento, erano anni meravigliosi. La storia invece, sempre dalla prima del Carlino, era in malattia ma giocava a calcio, per questo è stato condannato. Esami di maturità, la carrellata di foto dei migliori studenti, e poi da Gabice, Pascuzzi, il Covid Hotel, giusto averlo. Sotto, di taglio basso, con il Brasile eliminato, scatta l'ora di Petrovic, parliamo di basket, e poi calcio, la Vissa acquista Cannavò, di Paola, grazie, Pesaro. E allora, vediamole queste pagine dedicate a Raffaella Carrà. Ciao Raffaella, mai trappelato nulla della sua malattia? È un bel ricordo, che vi consiglio di leggere, un ricordo che porta la firma di Andrea Maccarone, sul Corriere Adriatico di oggi. Regina e icona, la più amata dagli italiani, è morta a 78 anni, ha fatto innamorare e ballare un intero paese, e dalle marche partì il suo leggendario spot, per le cucine scavolini. Ma, attenzione, parliamo anche di ospitate. Nelle marche, appunto, Raffaella Carrà, la più amata degli italiani, ha lanciato le cucine scavolini, ma non ha mai tenuto concerti o spettacoli, se non qualche sporadica ospitata, nei club di provincia, come quello allo Giabì di Marotta, più di trent'anni fa, quando ancora ballava in coppia con Enzo Paolo Turchi. Attraente, senza essere sexy, la Carrà ha cantato l'amore da Trieste in giù, e magari a far l'amore comincia tu, perché non c'è odio e non c'è guerra, quando ha letto l'amore c'è. L'avesse detto qualcun altro, sarebbe stato scabroso per l'epoca, invece la sua naturale leggerezza, ha saputo diluire le allusioni, in una ondata di contagiosa allegria. E l'altra pagina invece del Corriere è un'intervista a Walter Scavolini, che in questi giorni è in Sardegna, in vacanza, la scelsi perché dice era popolare, come Pertini e Uetila, la pionata di italiani fu il tormentone degli anni Ottanta, gli anni della Milano da bere, degli iuppis importati da New York, dai paninari e di una pesaro che veleggiava con il vento in poppa. C'era il Salone del Mobile, a Scavolini, che con le sue cucine conquistava fette di mercato ed era alla vigilia della sua stagione d'oro del basket. Raffaella Carrani divenne la testimonial perfetta tra il 1984 e il 1987, a uso e consumo delle famiglie, un nome, un volto, un claim destinato a rivoluzionare per sempre il concetto di spot. Il claim sarebbe appunto la più amata degli italiani, in gergo viene definito così. Allora un sondaggio, pensate, di Sorrisi e Canzoni TV, che quella volta era la Bibbia della televisione, insomma, quello che scriveva la tv suorrisi e canzoni era oro colato. La Bibbia televisiva aveva decretato che c'erano tre personaggi famosi in quegli anni in Italia. Giovanni Paolo II, il Papa, Pertini, che era al terzo posto, e poi Raffaella Carran, per l'appunto. Walter Scavolini dice, di lei ho un ricordo bellissimo, nel 1984, quando è entrata a far parte della Scavolini, abbiamo ottenuto grandi risultati, era il periodo migliore della sua carriera, perché conduceva una trasmissione molto importante, pronto Raffaella, lei è stata un grande personaggio, ci ha dato molto, dice ancora Scavolini, mi dispiace veramente che tanto che se ne sia andata, per me era una ragazza, aveva un anno meno di me. Recentemente ci siamo sentiti qualche volta perché serviva il suo consenso per pubblicare le immagini e quindi ci siamo lasciati in buoni rapporti. Parola di cordoglio anche da Fabiana Scavolini, che è CEO di Scavolini Spa, dice di Raffaella conserviamo un indelebile ricordo. E il resto del Carlino invece pubblica questa bellissima foto di una giovanissima Raffaella Carrà, Scavolini, una donna bella e molto gentile, dice la morte è un grande dispiacere, l'omaggio di Walter, il primo anno del nostro connubio fu veramente un trionfo con lei, poi è rimasto sempre un ottimo rapporto. E adesso invece dagli anni Ottanta ci catapultiamo al 2021, in questo di nuovo anno orribile, anno funesto con tutti questi dati, numeri, con questi scenari un po' così. E allora parliamo di pandemia. Perché? Perché ci sono dei dati interessanti che oggi Maria Teresa Bianciardi pubblica e analizza sul Corriere Adriatico e sono i dati che stanno affiorando nelle analisi effettuate dall'osservatorio epidemiologico delle Marche diretto dal dottor Marco Pompili che evidenziano una realtà che stava iniziando un po' ad andare in sordina. E allora vediamoli questi dati perché davvero sono interessanti. Allora dal primo giugno ed è questo anche il titolo vedete dal primo giugno di quest'anno ad oggi sono stati conteggiati 997 marchigiani positivi al virus e di questi il 17,5% aveva già fatto la prima dose di vaccino anti-Covid Ora che cosa succede che è chiaro che e qui lo ribadisce appunto Maria Teresa in questo articolo che una dose è sufficiente solo per chi ha dovuto fare i conti con la malattia oppure per chi ha ricevuto il vaccino monodose Johnson & Johnson altrimenti per tutti gli altri è importante anche il richiamo quindi quando uno si fa la prima inoculazione e non è Johnson & Johnson che quindi è monodose oppure non ha avuto il Covid quindi chi non ha avuto il Covid e si fa la prima punturina ecco sappia che da lì in poi finché non fa la seconda è come se non avesse fatto niente quindi i rischi sono sempre molto alti di poter prendere il virus se non sta distante se non porta la mascherina e fa tutte le cose da monaco tibetano come dico io quindi detto questo con l'avanzare della variante delta scrive ancora la bianciata gli dice la possibilità di essere infettati prima di concludere il ciclo è ancora più alta ora la protezione in percentuale è molto bassa e occorre mettere in campo tutte le cautele per non rischiare il contagio tra gli over 80 invece tra gli anziani che hanno più di 80 anni ci sono 25 contagi cioè 25 anziani che hanno più di 80 anni in questi giorni si sono contagiati con il virus di questi solo 9 non erano ancora stati vaccinati quindi su 25 9 non erano stati ancora vaccinate mentre gli altri 16 ovvero il 64% avevano già avuto la prima dose di siero ora resta e questo è l'altro dato importante una sola persona ricoverata in terapia intensiva a Marche Nord e non risulta invece più in rianimazione l'altro paziente pediatrico ora questo è chiaro sono i dati che noi riceviamo e che quindi vi facciamo vedere attraverso i giornali però è altrettanto chiaro che la strategia adesso è quella di mettere paura a coloro che non hanno fatto il vaccino di dividere i buoni dai cattivi i vaccinati non vaccinati è una strategia che chiaramente parte dall'alto e che i grandi mezzi di comunicazione la televisione innanzitutto poi i giornali e quelli che gestiscono questa pandemia ormai da un paio di anni con un pensiero che è unico e deve essere quello ma senza stare a fare dietrologie avete visto leggendo tra le righe un po' la situazione da una parte abbiamo 997 persone contagiate dall'altra una sola persona in terapia intensiva quindi questo significa che comunque gli effetti del vaccino ci sono ma nello stesso tempo non è più non è più come era come era prima quindi non è detto che chi prende il virus vada a finire in ospedale e questo grazie appunto anche al vaccino indubbiamente detto questo detto questo vediamo l'altra pagina del resto del del Corriere Adriatico eccolo qua la pagina di Urbino restando sempre in tema di sanità c'è la buona notizia che la TAC questo strumento importantissimo è stata riparata dopo 5 giorni Magnoni che è il direttore dell'area vasta numero 1 dice abbiamo dovuto far venire un pezzo dagli Stati Uniti è arrivato ci è stato inoltrato e da oggi cioè da ieri già dal primo pomeriggio subito dopo che è stato rimodulato l'hardware e il software abbiamo ricominciato con gli esami quindi la TAC da ieri è tornata operativa per quanto riguarda invece la pagina di Fano in primo piano c'è un'iniziativa che si terrà all'arena BCC di Fano che è un'iniziativa di solidarietà perché da una parte c'è uno spettacolo di musica con tutti i cantanti fanesi e dall'altra c'è la solidarietà perché tutto quello che verrà incassato da questi eventi andrà a beneficio della mensa per i poveri di San Paterniano e in mezzo ci sta anche il ricordo ovviamente di un personaggio di una persona che ha dato tanto alla cooperativa Tre Ponti alla BCC Arena eccetera che è Fabio Guccione che è scomparso recentemente e che tutti quanti noi lo ricordiamo con affetto per quanto invece concerne la vicenda dello smart working ovvero del lavoro da casa sapete che in questi giorni il sindaco di Fano è un po' sulla graticola perché ha richiamato tutti i lavoratori fragili compresi parola brutta ma comunque questo è così ci capiamo li ha richiamati tutti al posto di lavoro in ufficio quindi in presenza da mercoledì quindi da domani ed è scattato un putiferio perché i sindacati si sono messi di traverso come al solito e vabbè allora smart working questa è la pagina di Pesaro perché adesso si fa il paragone si guarda la situazione a Pesaro dopo il caso di Fano 9 su 10 a Pesaro sono già tornati a lavorare in comune nel pubblico dice il sindaco Matteo Ricci la produttività è andata giù e la situazione a Pesaro il 90% adesso lavora in presenza ma il bilancio non è stato positivo ora la fotografia che chiaramente questo fa un po' sorridere ma a vedere la fotografia che il giornale ha pubblicato stamattina di un lavoratore a casa ecco immaginiamo un dipendente del comune che lavora a casa così sarebbe da dire adesso alza le chiappe vieni subito in ufficio e mettiti a lavorare e lasciamo stare tutte le stupidaggini che vengono dette su questa cosa poi sui fragili non posso dire nulla non possiamo commentare nulla perché il fragile bisogna capire cosa si intende per fragile e che cosa davvero rischia tornando al lavoro in ufficio rischia il contagio chiaramente va bene però adesso bisogna vedere poi dove lavora il posto se ci sono le distanze e tutto il resto ma comunque Fano fa mezzo passo indietro nel frattempo che è un classico una marcia avanti due indietro ma questo è sempre stato così abbiamo questo difetto fa mezzo passo indietro dopo la bufera i lavoratori fragili possono restare a casa io lo ha chiarito il dirigente del personale con una circolare inviata ieri il termine di scadenza resta quello del 31 di luglio intanto oggi è fissata l'assemblea dei dipendenti che poi faranno il punto della situazione con i rappresentanti sindacali allora andiamo adesso sulla pagina del Corriere perché c'è la notizia che riguarda la Profilglas una delle più grandi aziende al mondo che lavora all'alluminio che dà lavoro tantissimo lavoro a centinaia e centinaia di persone a Fano e oggi si parla di Profilglas per la questione dei due incidenti mortali fatali per i quali la Profilglas è stata sanzionata per un milione e duecento mila euro per o meno è la richiesta dell'accusa associata a diciotto mesi di reclusione per il titolare sentenza il prossimo dodici mensa dei poveri quasi duecento pasti al giorno invece è l'argomento che trova spazio sulla prima del Carlino di Fano mobilitazione in favore degli ultimi con un concerto venerdì alle ore 21 all'arena BCC l'omaggio a Fabio Guccioni e all'opera Padre Pio poi sotto il comitato ciclovia contro il ripristino del treno un ripristino della ferrovia che viene giudicata come una follia Enrico Tosi l'unico interesse sembra essere produrre progetti anche se irrealizzabili vista la parcella intorno al 10% sul totale della spesa che è di 100 milioni di euro sulla siccità è allarme rosso per i fiumi e per i torrenti nel canale Albani è immessa acqua non potabile dai pozzi per garantire la presenza delle anatre e delle altre specie insomma adesso si mettono in campo un po' qui siamo sulla pagina di Fano del Carlino si mettono in campo un po' le varie strategie l'assessore Mascarin dice se non pioverà sarà difficile affrontare i prossimi due mesi quindi non sprecate l'acqua questo è l'invito il ladro che viene smascherato con uno scanner corporeo sembra fantascienza stava rubando in un garage di un albergo nella zona del mare è intervenuta una società privata di Vigilantes che ha sventato questo furto sabato mattina poi addio alla psicoterapeuta Cinzia Picciafuoco aveva 69 anni ed era moglie amatissima del notaio Francesco Zaccarelli aveva compiuto 69 anni lo scorso febbraio e se ne è andata in punta di piedi quasi a non disturbare oggi pomeriggio alle 18 in Duomo sarà celebrato il Rosario e poi domani pomeriggio sarà celebrato si pregherà il Rosario insomma e domani pomeriggio alle 16 sempre in Duomo si terranno le esequie andiamo invece adesso sulla pagina 14 del Corriere Adriatico a giugno piogge quasi azzerate e in 142 anni solo altre tre volte sono allarmanti i dati dell'osservatorio Valerio il presidente della provincia Paolini dice io sono molto preoccupato perché davvero le temperature intanto sono altissime in queste ultime settimane di giugno soprattutto le temperature massime è stata di 35,1 gradi centigradi mentre il record storico sempre per il mese di giugno è di 37,4 che abbiamo toccato il 29 giugno del 2005 37 insomma poi ci sono tutta una serie di dati interessanti che si possono trovare in questo articolo che porta la firma di Luigi Benelli poi una donna qui la cronaca grave donna di 84 anni che è stata investita da un autocarro un incidente è successo ieri nella zona di Belvedere Fogliense del comune di Tavulia dove quest'anziana di 84 anni è stata investita da un autocarro in transito intorno alle 8 di mattina in località Santa Barbara e non si esclude che il conducente dell'autocarro di Mondaino possa aver perso il controllo perché abbagliato dal sole da Fossombrone l'ospedale è libero dal covid ma ha perso 10 posti letto e l'amarezza per la riduzione delle cure intensive la minoranza incalza il sindaco poi sotto da terre roveresche invece un oro nazionale e due medaglie d'argento per quanto riguarda il box team ginnastic di Piagge che si afferma anche con 8 titoli regionali andiamo a Senigallia senso unico incidenti sulla statale il lungomare diventa una trappola adriatica bloccata auto imbottigliate sulla litoranea da Vinci per due ore durante il controesodo soste sulle strisce il pedone avverte chiamo i vigili la prossima volta chiamo i vigili ha scritto un pedone in un biglietto lasciato sotto il tergicristallo di una macchina parcheggiata sulle strisce pedonali del lungomare Mameli di Domenica torna la banda della Golf doppio colpo non bastano inferriate cani da guardia due abitazioni svaliggiate a Serra dei Conti Gratta di Velta e Mastino narcotizzato quindi il ladro scusate il cane è stato narcotizzato i ladri anche a Cassiano poi il ponte delle vite spezzate il papà di Emma Fabini dice tutti sono in debito con le vittime della lanterna azzurra e con questo chiudiamo qui la nostra rassegna stampa il nostro commento alla stampa del giorno che torna domani ovviamente alle 7 del mattino puntuali questa sera alle 20.30 c'è il telegiornale Occhio alla Notizia grazie per averci seguito buona giornata a tutti Grazie per aver guardato Grazie per aver guardato Grazie per aver guardato